Salve ragazzi ed eccoci ad un nuovo video, ma prima di cominciare con la recensione di oggi, come sempre, sigla! Bene, la serie tv di cui decido di parlarvi quest'oggi è Sweet Tooth, creata da Jim Mickle per la piattaforma streaming statunitense Netflix e basata sull'omonimo fumetto di Jeff Lemire. La serie, prodotta da niente poco di meno che Robert Downey Jr. e sua moglie Susan Downey, oltre ai due autori ed anche Amanda Burrell e Linda Moran, la serie ci racconta di una pandemia, un qualcosa di decisamente molto attuale, anche se qui nella serie è resa in maniera molto più catastrofica, una pandemia che si abbatte sul pianeta, sterminando quasi totalmente la razza umana. Inoltre questa pandemia porta alla nascita di una moltitudine di bambini considerati ibridi, poiché in parte umani, in parte animali. Naturalmente non sono ben visti questi ibridi e alcuni dei pochi umani rimasti vivi si organizzano in vari gruppi, in una sorta di clan, tra cui c'è quello denominato gli ultimi uomini, che danno la caccia proprio a questi ibridi. La serie ha diversi protagonisti. Diciamo che quello che spicca di più è sicuramente il piccolo Gus, proprio un ibrido, perché per metà umano e per metà cervo, il quale, dopo diversi anni nascosto nella foresta, per appunto non farsi trovare da questi ultimi uomini, dopo quindi diversi anni nascosto, un giorno, quando oramai è costretto a dover uscire dalla foresta, incontra Jepperd. Jepperd è un vagabondo, un ex giocatore di football. Assieme i due intraprendono un viaggio pieno zeppo di pericoli, alla ricerca della madre del piccolo Gus, la quale, teoricamente, dovrebbe trovarsi in Colorado. Lungo il loro cammino incontrano diversi nemici e anche qualcuno che, possibilmente, potrebbe diventare un alleato. E Gus si trova a dover imparare molto velocemente che il mondo al di fuori della foresta dove ha vissuto per anni, dove è cresciuto, è ben più pericoloso e complesso di quanto credesse. Un aspetto molto interessante è come vengono sviluppate le varie storie, che vengono appunto prese in considerazione, perché, nonostante siano più di una, nessuna passa in secondo piano. E tutte le varie trame, e di conseguenza i vari personaggi che le vivono tali storie, risultano tutti importanti. Quella che da subito pare essere, appunto, quella principale, è la storia di Gus, il vero e proprio protagonista della serie TV. Visto che è il soprannome che gli viene affibbiato proprio dal suo amico, Jeff, ovvero Sweet Tooth, in italiano è stato tradotto, mi pare, in golosone. Io la serie però l'ho vista in lingua originale, ve la consiglio, se potete recuperatela in lingua originale perché è davvero fantastica. E appunto questo Sweet Tooth dà il titolo all'intera opera. Tra le tante storie trattate, quella di Gus è naturalmente quella che coinvolge, che nel personale appunto mi ha coinvolto di più. Lo spettatore è portato a voler conoscere fin da subito le sorti di questo ragazzino, che ne passa davvero di cotte di crude lungo il suo viaggio. Quella che personalmente mi ha colpito di meno è quella riguardante il dottore, perché secondo me sviluppata non al pieno delle sue potenzialità, nonostante vengano tutte sviluppate molto bene. Un'altra invece molto interessante è quella di Amy, una sopravvissuta, e di molti altri personaggi anche che inizialmente magari pagliano secondari, proprio che magari sia solo un cameo così, invece poi si risultano, risultano essere molto importanti. Il cast nonostante non sia formato da grandissimi nomi, risulta davvero azzeccatissimo. Inoltre il narratore che accompagna la visione, che accompagna lo spettatore lungo tutta la narrazione, funge proprio da collante tra le varie storie. In più non risulta mai essere troppo ingombrante, ed anzi aiuta molto a seguire il tutto senza perdersi magari tra una trama e l'altra, tra un dettaglio e un altro, attraverso sempre una piccola introduzione, magari qualche dettaglio lungo l'episodio, e poi alla fine con una sorta di chiusura di ogni singolo episodio. Un altro dei aspetti più positivi riguarda sicuramente la computer grafica, gli effetti speciali e visivi. I vari ibridi sono creati con una minuziosità pazzesca, decisamente molto realistici, e appunto la CGI non è troppo ingombrante, cioè il tutto ti resta comunque, nonostante sia un ambiente fantasy, molto credibile, e non li ho trovati mai fuori contesto. Anzi, si vanno a integrare benissimo con le fantastiche scenografie, le atmosfere e i toni di questa ottima serie TV. Insomma, Sweet Tooth è un prodotto televisivo davvero ben fatto, e che mi ha sorpreso moltissimo. Finalmente, dopo un bel po' di tempo, ho trovato una serie TV che mi ha soddisfatto da ogni punto di vista. A livello di scrittura, per la fantastica messa in scena, a livello visivo e narrativo, per il fantastico background di tutti i personaggi, ed anche per le loro varie evoluzioni. Da quelli a cui mi sono affezionato di più, a quelli che magari mi hanno colpito un po' di meno. E naturalmente c'è lo spunto per una seconda fantastica stagione, speriamo. Da un certo punto di vista, penso che a molti videogiocatori, sarà saltato appunto all'occhio il dettaglio delle tante similitudini con il titolo firmato Naughty Dog e The Last of Us. Naturalmente parlo di livello visivo, di ambientazioni, un po' le atmosfere. Naturalmente non si tratta comunque di qualcosa di horror. Sweet Tooth ha quel fantasy in più, quel qualcosa che lo rende davvero molto originale ed interessante quanto avvincente. Detto questo, posso concludere ricordandovi che se il video vi è piaciuto, potete lasciare un like e condividere sui vostri vari social. Vi ricordo che la serie di tv Sweet Tooth la trovate disponibile da oggi interamente, da oggi 4 giugno su Netflix. Recuperatela, se potete, in lingua originale. Inoltre non mi trovate solamente qua su YouTube, ma anche su Facebook, Twitter e Instagram. E trovate tutti i link qua sotto in descrizione. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi subito, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite, sui nuovi video. E noi ci vediamo ad una prossima video recensione. Ciao! Ciao!